Movida sicura anno c'era inferiore incontro al comune tra l'assessore al commercio Antonio Franzi e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Negli ultimi tempi sono tanti i locali venuti alle luce, soprattutto nel centro cittadino di Nocera inferiore per garantire sicurezza e convivenza civile con i residenti. Inoltre è stata firmata nei giorni scorsi un'ordinanza ad hoc da parte del sindaco Malio Torquato. C'è stata una riunione con le forze dell'ordine proprio per mettere su una sorta di coordinamento grazie al quale poi saranno ben chiarite le linee guide sulla sicurezza che dovranno essere rigorosamente osservate. In particolare la vostra prima ordinanza su cosa verte e quali sono le concessioni che sono state fatte nei confronti dei titolari di questi esercizi commerciali? Noi abbiamo un regolamento sulla zonizzazione acustica che prevede nell'arco di un anno l'organizzazione di 13 serate per un numero non superiore alle tre giornate a settimana. Grazie all'ordinanza emessa dal sindaco la settimana scorsa abbiamo consentito ai locali di Piazza del Corso di poter realizzare i loro eventi dal 13 luglio al 13 settembre cercando ovviamente di rispettare anche quelle che sono le esigenze dei cittadini quindi si potrà suonare però fino alle 23.55 poi dopodiché la musica dovrà essere spenta in modo da raggiungere un punto di incontro sia costruttivo ma anche per poter poi lavorare con più serenità per il futuro. In questi giorni lei sta girando molto per la città per parlare direttamente con i titolari di negozi e di locali dislocati nei vari punti della città perché poi il nocere è molto vasto e ogni zona ha le sue esigenze. Come sta andando questo percorso, questo tour e quali sono le istanze che arrivano? Ci sono stati solo alcuni incontri informali è mia intenzione incontrare tutte le associazioni di categoria come amo dire in questi giorni il mio sarà un assessorato d'ascolto, infatti punto forte sarà proprio quello, riuscire a recepire tutte le istanze che vengono dal mondo dei commercianti ed insieme poter mettere su un programma che possa avere delle rigadute positive sul nostro territorio. Qual è il messaggio che vuole lanciare ora dopo questa ordinanza, dopo questi primi incontri con le forze dell'ordine ai nocerini? Di darci una mano e quello di mettere in campo insieme all'amministrazione una serie di azioni che ripeto possono dare benefici a tutta la città di Nocera. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, siamo ben disponibili ai suggerimenti e ai consigli che possano provenire dalle diverse realtà presenti sul territorio.